non è poi tanto sorprendente che alcuni popoli mettano ancora in relazione i gufi con il sovrannaturale qui in africa quanto pare alcuni possiedono poteri che potremmo definire ultraterreni alcuni gufi riescono perfino a cacciare i pesci nelle acque più scure mentre tutto ciò che vediamo sono solo i riflessi della superficie uno dei gufi pescatori di pelle usa la sua vista notturna per esaminare l'acqua individuando le prede aspettando pazientemente il maschio attende che un pesce nuoti a una distanza tale da poterlo afferrare sovrannaturale ma questo killer molto efficiente ha un lato debole porta la sua preda alla femmina con uno spettacolo commovente la nutre questo gesto solidifica il legame della coppia e sta a indicare il desiderio del maschio di accoppiarsi